Nelle borgate di Sassari l'amministrazione arriva più tardi. Si vede dalla incompletezza con cui sono stati fatti i lavori di sfalcio delle erbacce a Palmadula, dove l'impresa che ha ricevuto in appalto la pulizia di parchi e aiuole ha quasi concluso il primo intervento senza che nel capitolato fossero incluse aree importanti della borgata, come lo spazio adiacente alle scuole elementari e il parco di fronte alla piazza principale. Gli scorsi anni, precisa il consigliere comunale Enrico Sini, che ha segnalato il problema in assemblea, lo sfalcio veniva eseguito dagli operatori del geoparco. Purtroppo quest'anno nessuno si è ancora occupato di quelle aree. Speriamo che al più presto si trovino le soluzioni adeguate, magari con i cantieri comunali, scrive Sini, anche perché con l'avanzare della stagione aumenta il rischio di invasione di parassiti come insetti e zecche vicino alle scuole ai luoghi in cui giocano i bambini, alle abitazioni. Anche il campetto da calcio della borgata, continua Enrico Sini, sarebbe stato impraticabile se non fossero intervenuti volontariamente i ragazzi stranieri e ospiti del centro di accoglienza di Monte Allegro.